La Royal Family sta vivendo un momento molto doloroso e adesso Re Carlo deve affrontare un altro gravoso problema. Le notizie sulla famiglia reale si alternano tra speranze e segreti svelati, rivelazioni sciocche e annunci ufficiali. Al momento, William e Kate sono stati visti insieme ai tre figli ad un evento ludico, mentre Re Carlo e Camilla si trovano al castello di Balmoral, in Scozia, per le vacanze estive. Il re, però, ha dovuto affrontare un altro problema prima di godere del meritato riposo. È doveroso ricordare che il sovrano, proprio come la principessa del Galles, ha ricevuto una diagnosi di cancro e sta lottando per sconfiggerlo. Nonostante ciò, e malgrado la sua età, sta cercando di regnare al meglio, occupandosi non solo di questioni politiche ma anche del problema Ferri, come lui stesso sembra l'avrebbe definito sin dal principio. Adesso, per Charles, si è concretizzato un altro profondo dolore.